il sasso non prende il sasso il sasso qua non viene arrivo arrivo sta arrivando si deve preparare arrivo arrivo vieni qua a vedere lascia la moto dove vai dai che c'è la roba da vedere muoviti pensa che le vai a comprare e ti chiedono 100 euro dove è andato? qua come l'altra volta è sempre quella qua è pieno qua qua è incinta eh guarda come gonfia sulla pancia la mettiamo giù la bellezza è quella che ha fatto spaventare spanchi l'altra volta ma forse mi ha messo davanti gli occhi birra bellissima tra l'altro l'abbiamo trovato giù l'abbiamo trovato giù no? si da sotto ma è più semplice ma è più semplice se non pensate io che cazzate? qua stai su qua guarda l'altro qua guarda l'altro qua guarda l'altro guarda le marce ma l'hai controllata? si si oh perché magari sei in quinta a te guarda non accendo l'aria per un cazzo non far'lla piazza prendi un occhi c'è l'arDa c'è la pedano c'è la pedano bravo Ustan Esse vedo allora dwa Non guarda! Ma che importa! Vai in giù le parte! Non in giù! Non guarda! Sii... Sii... Ri... Ti... 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.